È immaginabile che con quello che sta accadendo oggi un'unione della difesa, un'unione dell'energia siano maggiormente all'ordine del giorno, ecco, come priorità, però questi temi che sono così al centro del dibattito si reggono su meccanismi decisionali molto fragili, l'unanimità, il potere di vetto, pensiamo anche ai temi del bilancio, i temi della fiscalità, in generale della politica estera. Dunque io penso che sarebbe necessario, sarà necessario, io penso ci arriveremo, una maggiore unità politica prima di tutto, un sistema decisionale organizzativo dell'unione che dia il senso di una maggiore integrazione politica come premessa per poter costruire quindi un'unione sulla sicurezza, sull'energia, che richiedono, come dire, secondo me prima di tutto questa maggiore coesione, altrimenti sono scelte che verrebbero fatte solo in maniera parziale con compromessi molto limitativi. Oggi quasi nessuna forza politica si pone esplicitamente con l'intento di distruggere l'unione, di rompere l'unione europea, però soltanto alcune forze politiche, alcune proposte di governo dei paesi si pongono chiaramente l'idea di riformare l'unione per costruire una maggiore sovranità comune. Ecco, io credo che le elezioni in Francia, poi quelle che avverranno in altri paesi, fra cui l'Italia comunque in tempi non lontani, andranno a impattare su che tipo di percorso di integrazione vediamo per l'unione. Un'unione che fa piccolissimi passi oppure un'unione che fa un salto di qualità nell'integrazione. Io credo che ci sia bisogno di un'integrazione più forte per fare maggiormente, lo dico da italiano, gli interessi del nostro paese, che ha tutto da guadagnare da un'Europa più integrata e non frammentata, come ancora oggi, nonostante tutto, ancora è l'unione di oggi, che sulle grandi questioni fa fatica a prendere decisioni comuni che siano stabili e durature nel tempo. Credo che di questo si discuterà nelle elezioni e sarà un elemento che influenzerà anche il dibattito politico.